Anche quest'anno torna l'iniziativa natalizia del Movimento 5 Stelle dedicata ai più piccoli con libri e giocattoli in movimento. Saremo presenti a partire dalle ore 10 in Piazza Diomede, sabato 19 dicembre, con il nostro gazebo per cercare di insegnare anche ai più piccoli lo spirito del riutilizzo e della condivisione perché il giocattolo che il nostro figlio non usa più può essere un giocattolo nuovo e bellissimo per qualche altro bambino, soprattutto in questo periodo in cui il consumismo spesso va a schiacciare quelli che sono i valori veri del Natale, che devono essere valori di riscoperta della condivisione. Ecco, con questa iniziativa del Movimento 5 Stelle che è arrivata alla quinta edizione potremo insegnare ai nostri figli un pochino dello spirito di condivisione e di riutilizzo che oggi spesso viene invece ribaltato da quello che invece è lo spirito consumistico che viene legato alla festività natalizia. Allora, tutti presenti sabato 19 in Piazza Diomede a Basto per giocattoli e libri in movimento. Chiunque di voi abbia dei giocattoli in buono stato e dei libri in buono stato che vuole mettere a disposizione dell'iniziativa, può contattare i ragazzi del Movimento e dare la sua mano per il successo di questa iniziativa. A presto!